Salve, grazie di questa possibilità per poter incontrare anche tutti quelli che fanno parte di questa comunità sparsi sull'isola d'Ischia. È dal 21 agosto, quindi 2017, che questa chiesa parrucchiale è chiusa al culto. I danni che ha avuto, direi, nella struttura, quella che voi vedete qui non sono tantissimi, quanto piuttosto tutto il retro della chiesa, che oggi non è possibile accedere a quei luoghi, quindi la sala parrucchiale, la sacrestia, la casa canonica, tutta la parte che c'è dietro alla chiesa, dietro all'altare, praticamente è inagibile. La struttura, per grazia di Dio, ha retto perché è una delle prime strutture antisismiche proprio della storia, Tant'è vero che il progetto fu presentato, pensate, alla Fiera Universale di Parigi. Ed è un progetto che tra l'altro è stato interesse anche degli studi della Facoltà di Architettura e di Ingegneria di Napoli, perché appunto si è visto come dopo 135 anni dalla sua costruzione, il progetto, direi, la struttura della chiesa, direi, ha reagito molto bene all'impatto del terremoto. I danni, come vedete, però sono stati provocati alle navate della nostra chiesa. Tutti gli altari purtroppo sono come scoppiati con il terremoto, l'ultimo terremoto e quindi noi potremmo utilizzare soltanto parte della chiesa, non potremmo utilizzare la sacrestia. Per noi però è un passo comunque importante, anche se utilizziamo soltanto parte della chiesa parrucchiale, perché per i casamicciolesi è un po' il segno di quello che il venerabile Morgera chiamava la risorta casamicciola, un segno di speranza. Le case purtroppo sono ancora lì, sono ancora chiuse, tutte le nostre case sono distrutte, però questo è come un inizio, una specie di piccolo germoglio che nasce dopo tanto, tanto dolore e tanta sofferenza. L'ho visto in questi giorni in cui la parrocchia è rimasta aperta per la preghiera personale che si sono succedute tante persone con le lacrime agli occhi e la cosa che mi ha colpito di più non solo persone anziane, ma i giovani, i giovani che veramente avevano gli occhi inondati di lacrime. E questo, voglio dire, è una grazia, una benedizione per tutti quanti noi e speriamo che possa veramente, come dire, essere l'inizio di una nuova casamicciola. Gli appuntamenti ufficiali della riapertura saranno domani, 25 giovedì, 25 di marzo, con una giornata di adorazione dalle 10 alle 19, mentre venerdì, con la festa dei Sette Dolori di Maria, ci sarà la Santa Messa Solenne alle ore 18.